Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. Eleonora Giorgi, l'amatissima attrice, ha tenuto in ansia i suoi fan per due settimane dopo aver annunciato la necessità di un intervento chirurgico per un tumore al pancreas scoperto lo scorso novembre. Durante questo periodo di silenzio, nonostante le rassicurazioni di suo figlio Paolo e Andrea, la prensione è rimasta alta. Ora, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, l'attrice ha finalmente dato notizie rassicuranti attraverso il suo profilo Instagram il 26 marzo, annunciando che l'operazione è andata bene e che è pronta per tornare a casa. Eccoci qui, sono passate più di due settimane e si va a casa. E viva finalmente, ha scritto l'attrice, esprimendo la sua gioia nel lasciare la clinica romana. Prima di questo aggiornamento, erano stati i suoi figli a informare i seguaci sulla sua salute, lodando il personale medico per l'assistenza ricevuta e ringraziando il pubblico per il sostegno mostrato. Mamma sta molto meglio, avevano detto, offrendo un po' di serenità ai fan di Eleonora. Le poche informazioni successive all'operazione suggeriscono che l'attrice abbia impiegato questo tempo per recuperare le forze e riacquistare la piena autonomia nel gestire la sua vita e le sue comunicazioni. E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti. E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.